Ciao a tutti, ho dovuto cancellare l'audio originale di questo video perché veramente non si sentiva niente, il rumore dell'aria e del vento contro di noi era troppo forte. Comunque vi sto portando con me in questo giretto in moto, abbiamo fatto una sessantina di chilometri ma forse qualcosina in più. Percorrendo diversi paesi della Valle Brembana, una bellissima valle, con noi una coppia di amici che vedete davanti a noi, anche loro in scute, che ci hanno fatto un po' da guida perché nativi proprio di questa valle, la bellissima Valle Brembana piena di verde, di boschi, tenuti benissimo peraltro. Veramente una bellezza, eccomi qui che vi saluto e poi andiamo avanti con il video, il video in queste valli. E dopo una sosta per un bel caffè continuiamo la nostra sgruppata, tra virgolette, in questa magnifica valle, guardate che bellezza. Siamo diretti a un piccolo borgo, sempre annidato nella Valle Brembana dove ci aspetta una bella trattoria caratteristica dove consumere un bel pasto, un bel pranzetto locale. Vi stavo dicendo prima che i boschi qua sono tenuti molto bene perché grazie alla cura di tanti volontari della protezione civile e dei gruppi antincendio tengono i boschi molto puliti, sotto bosco ben pulito, in modo che anche se ci fossero focolai di incendio, verrebbero domati in breve tempo grazie appunto all'intervento di queste squadre. Abbiamo dei monti stupendi, non sono riuscita a filmare quelle che vengono chiamate le dolomiti bergamasche, ma magari in un prossimo viaggetto ve le mostrerò, viaggetto, più che viaggetto, giretto in moto. Guardate quanto verde, quanto verde, questo veramente è un patrimonio che tutti, tutti dovremmo rispettare, è una meraviglia. E vi dico anche che ho sofferto anche un po' di freddo passando in mezzo a questi boschi, in queste stradine tra i boschi. Vi saluto tutti con un abbraccio e un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!